La loro attività, la ginnastica ritmica, i loro sacrifici che comunque le hanno resi indiscusse campionesse del mondo in calma. Sulle nove, il rumore è così grande, la squadra nazionale di ginnastica ritmica. Sulle nove, il rumore è così grande, la squadra nazionale di ginnastica ritmica. Sulle nove, il rumore è così grande, la squadra nazionale di ginnastica. Sulle nove, il rumore è così grande, la squadra nazionale di ginnastica. Grazie. 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 Grazie.